Arrivati a questo punto è piena emergenza, siamo riusciti fino ad oggi, stiamo riuscendo fino ad oggi a gestire questa emergenza con una turnazione notturna di serbatoi, siamo partiti da alcuni comuni, adesso siamo arrivati ormai già a 44 comuni, in alcuni comuni stiamo facendo chiusure oltre che notturne anche pomeridiane. Lorenzo Olivello, direttore tecnico dell'ACA, l'azienda consortile che gestisce il servizio idrico in 64 comuni, tutti quelli del Pescarese ma anche alcuni delle province di Chieti e Teramo, certifica un'emergenza già evidente da alcune settimane, ovvero la carenza d'acqua dovuta alle piogge assenti da troppo tempo. Ma quali sono le zone più colpite? Il massimo dei consumi sulla litoranea, quindi abbiamo Silvi, qua diciamo un po' in difficoltà, tant'è che perché c'è tutte le strutture piene, le strutture alberghiere sono tutte piene e quindi stiamo sopperendo con le autoboti. Zona Vestina? Zona Vestina, Penne, Loreto, Colle Corvino, anche lì c'è carenza, l'acquedotto del Tavo che serve, il Tavo Sud, la famosa sorgente vitella d'oro, la bella cascata della vitella d'oro quando in periodi di vacche grasse, diciamo così, oggi la cascata non c'è più, è assente. La sorgente scende circa un litro al secondo al giorno, quindi è una sorgente che dà oggi 150-160 litri al secondo, quindi ogni settimana ci mancano 7 litri da quelle parti e quindi questi 7 litri mancano a Valle fino a Montesilvano e noi ogni settimana cerchiamo di regolare e riequilibrare facendo parzializzazioni. Questa è una situazione che purtroppo si protrarrà fino a ottobre, novembre. Proprio ieri il Comune ha fatto installare dall'ACA un serbatoio di 2000 litri nel cortile della scuola media Virgilio Ai Colli, inoltre è stato anche attivato il centro operativo comunale. C'è infine un altro problema antico, quello delle reti Colabrodo. Le reti sono quelle che sono, ci vuole un grosso piano di ristrutturazione che noi abbiamo iniziato dall'anno scorso con i finanziamenti PNRR, stiamo facendo l'ingegneria delle reti di 6 comuni metropolitani, l'ingegneria delle reti vuol dire mettere strumenti per gestire la rete e fare in modo che ci siano meno perdite. Poi contestualmente dovrebbe esserci un altro piano di investimenti sulla sostituzione delle reti e quello è il problema. Quindi è un grosso impegno economico che deve essere ormai messo in programma e pianificato dal governo nazionale, presumo, perché sono investimenti ingenti. Grazie a tutti.